This is my channel All my drawings And more On Debbie Art Questo video è in collaborazione con Clou Essendo un video in collaborazione con Clou Questa volta farò un video diverso Ve racconterò la prima volta che mi è venuto il ciclo Il primo giorno è una specie di incubo Una specie di sogno Non capisco se stessi sognando O se fosse la realtà Ma comunque non è possibile Iniziamo dal principio del principio Del giorno del principio Giorno del principio Era a scuola Questo non ricordo bene Stavo ascoltando la lezione Ed ero veramente felice il giorno Perché era una bella giornata Era a scuola Ed era già palloso essere a scuola Quindi ero tranquilla Come tutti i giorni Quando ad un certo punto Ho iniziato a sentire una specie di mal di pancia Strano La prima cosa che pensai Fu ovviamente Sono io Sì esatto proprio tu Pensa voglio essere la protagonista per un giorno Non ti sto interpellando in questo momento Non c'entra niente Lo so pensavo fossi tu ma Purtroppo mi sbagliavo Magari fosse stato così semplice insomma Ti avrei fatto e sarebbe andato tutto via Giusto? Come sempre Come tutti i giorni Regolarmente parlando Ma purtroppo non eri tu Quindi smama Accidenti Ma ovviamente non lo sapevo In più il giorno La mia compagna più antipatica della classe Ce l'aveva con me Tipo mi guardava e mi chiedeva Come mai sei così pallida Sei così strana Ti vedo un po' sciupata Oggi Ma che cosa hai? I capelli fuori posto? Veramente? Non dico Veramente? Bando alle cianci e ciancia alle bande E il momento più cruciale della giornata Si stava avvicinando Presa dal panico Di dover ovviamente Andare in bagno normalmente Perché appunto pensavo che fosse Vi ricordate no? Già Andai in bagno E così senza farmi notare da nessuno Mi girai a destra e poi a sinistra Ma non c'era nessuno Quindi prosegui per il bagno tranquillamente Una volta raggiunto il bagno Ovviamente mi dovevo assicurare che non ci fosse nessuno E quindi destra e sinistra anche lì Ed era via libera Una volta seduta sul fantastico bc Potevo finalmente liberarmi Ma con mio dispiacere Che non era di certo Della cacca Che dovevo liberarmi Era arrivato! Cominciai ad entrare nel panico Ovviamente tornai immediatamente a casa Mi sembra che chiamai mia mamma Per fortuna Arrivò lei a salvarmi La mamma è sempre la mamma Il giorno tornai immediatamente a casa Perché non sapevo prima di tutto come comportarmi E poi non sapevo neanche cosa fare Cioè nel senso O mio dio che cosa sono questi dolori O mio dio sto per morire Vi giuro Pensavo Pensavo di morire Erano dei dolori lancinanti La notizia ai miei genitori Mamma papà Ecco Credo di essere diventata signorina Mio figlio è diventata una donna Oh mio dio Mio figlio è una donna È una cosa fantastica Sono così condanna Di moschi no È crescita così fretta No Ma non è mica preso la laurea In ogni caso ragazzi Avere il ciclo credo sia una cosa molto bella per noi ragazze Ovviamente siamo in salute e ovviamente è tutto a posto quando abbiamo il ciclo Comunque siamo arrivati al discorso di Clue Clue è un'applicazione fantastica Sinceramente io da quando ce l'ho mi controllo sempre tutto lì Nel senso tutte le situazioni Esempio oggi che cosa faccio? Vado, clicco su oggi e mi guardo Accidenti, oggi mi sento veramente felice E allora lo metto lì nella faccina Vedete, felice oppure sensibile, triste Insomma sono delle cose carine Perché per noi ragazze è fondamentale anche tenere d'occhio queste cose Non so, diciamo che la parte divertente della cosa Ovviamente non è mai divertente Possiamo mettere i dati sui capelli Noi ragazze abbiamo i capelli E per esempio oggi io ce li ho particolarmente carini Quindi posso ammettere anche che ce li ho belli Poi ho un'estrema voglia di dolce Non so perché Credo di essere nel periodo fertile Quindi voglio i dolci Credo di volere una torta Un tiramisù Oh sì Poi Oggi mi sento particolarmente concentrata E quindi mi ilo direttamente al bersaglio Poi prima ho fatto un po' di danza Ma siccome non c'è ho messo yoga Sono così felice ragazzi di avervi proposto questa applicazione Se vi piace e vi va di scaricarla Trovate il link nell'info box sotto Se volete altri video parlati un po' comici Un po' disegnati come questo Mettetemi un pollicino Magari fatemelo sapere nei commenti Come sempre vi ricordo di seguirmi in tutti i miei social Ho Facebook dove sto iniziando a caricare dei fantastici video Velocizzati di un minuto Se vi va di andare sulla pagina E tali potrete vedere Snapchat Oh mio dio ragazzi Snapchat Dovete seguirmi perché è fantastico Twitter e Instagram Altri social dove ho posto un sacco di cose E soprattutto potrete essere aggiornati giornalmente Aggiornati giornalmente Su delle cose nuove Esempio I pokemon nuovi che ho catturato Guarda che i pokemon veramente non ti portano da nessuna parte Tu cosa fai nella vita? Niente Perché scusa? Allora non giudicare la mia Vai 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 camminami Ebbene si ragazzi Vi lascio E ci vediamo al prossimo video Vi mando un bacione gigante Grazie per il vostro supporto Vi amo tutti Vi voglio Vi lovo Vi mando un abbraccio gigantesco E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao